Si può guadagnare una piccola fortuna. Martedì a mezzogiorno, Romuale annuncerà che lancia un'opa sulla vascella. Lunedì sera le porto 600.000 franchi in contanti. Martedì mattina di buon'ora, lei andrà da un agente di cambio che io le indicherò e gli farà comprare mille azioni vascella a suo nome. Vargono 600 franchi. Mercoledì quelle azioni verranno 750-800 per effetto dell'opa. Lei le rivende. Con un guadagno di 200.000 franchi. 50.000 saranno per lei. D'accordo. Ma perché ha bisogno di me per fare questo? Io non ho il diritto di farlo. conoscendo come stanno le cose. È molto grave. E io ho questo diritto? Oh, lei ha questo diritto, certo. Ma non ne faccia parola a nessuno. Nel modo più assoluto. D'accordo. 60.000 per me. D'accordo, glieli porto lunedì sera. Sbrigati, ti prego. Signora Bonaventure, capisco i suoi problemi, ma anch'io i miei. Devo potergli dire qualcosa. Questi sono 2.000. Le giuro che il 31 gli ne darò altri 2.000. Grazie. 2.000 vanno bene. Questo li farà pazientare senza problemi. Ecco la ricevuta. No, vede, ho avuto Benjamin con la bronchite. Due volte è venuto il medico. E poi le ferie. Dopo le ferie sono a terra. È così che ho accumulato tre mesi di ritardo. Mi scusi, ma c'è una cosa che mi sono sempre chiesto. Perché i suoi bambini hanno ognuno un cognome diverso? Mi scusi, eh? Ma no, non deve scusarsi. Non hanno lo stesso cognome perché hanno tutti i padri diversi. Ah, ecco. Allora lei ha avuto 5 mariti. Eh sì. Deve essere stato difficile per lei essere abbandonata tante volte. Ah, non me ne parli. Su 5, 3 hanno tentato di suicidarsi. Si rende conto. Ma adesso stanno bene. Si sono rimessi. Li vediamo una volta all'anno. Stanno bene.